Il detto che ormai da anni il Banco Farmaceutico propone è perché nessuno debba più scegliere se mangiare o curarsi, cioè i soggetti, le famiglie, i gruppi che hanno difficoltà economiche verranno aiutati. E con questo slogan che torna anche nelle farmacie comunali di Arezzo la giornata di raccolta del farmaco. L'iniziativa, giunta alla sua ventiquattresima edizione, è in programma da martedì 6 a lunedì 12 febbraio e rinnoverà una raccolta solidale di farmaci da destinare alle realtà assistenziali e caritative del territorio a cui potrà contribuire ogni cittadino. Nel poter avere i farmaci di base più comuni che noi adoperiamo, che vanno dagli antidolorifici, gli antinfiammatori, gli antipiretici, cioè quei farmaci di base, molti dei quali sono prodotti da banco e che servono per le situazioni immediate da risolvere dal punto di vista dei sintomi. Ho il raffreddore, ho il mal di testa, ho la febbre, come posso risolvere? Ecco, quindi ci sarà una raccolta eseguita nelle varie farmacie, i clienti che entrano potranno acquistare loro personalmente una scatolina di antipiretico, antinfiammatorio, eccetera, e metterla in un contenitore ad hoc apposito dedicato a questi pazienti. Negli anni precedenti siamo arrivati a poter soddisfare le necessità di oltre 300.000 pazienti in Italia, quindi roba importante, robe anche economicamente molto sostanziose, perché sono arrivati a raccogliere per un quantitativo intorno ai 5 milioni di euro.